Flash Mob Special Olympics in contemporanea in tutte le regioni d'Italia, anche Gela ha aderito animando Piazza San Giacomo al fine di dare visibilità alle abilità dei soggetti con disabilità intellettiva e lanciare il messaggio che la loro inclusione è assolutamente possibile. Anche a Gela è Flash Mob per l'inclusione, sappiamo che da anni a Gela l'associazione Rizzonte realizza il programma Special Olympics che è un programma per includere i ragazzi disabili nella società. Sappiamo anche che è già nata la prima squadra di calcio unificato, adesso in tutta l'Italia si fa sport unificato, anche oggi noi come in tutte le città dove si svolge Flash Mob c'è una testimonianza che la disabilità può essere inclusa nella società, non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana. No dunque all'isolamento, no alla emarginazione, sì alla valorizzazione della persona umana qualunque siano le abilità di ciascuno, un inno alla vita insomma.